Passerà l'estate in città a Michele, vive alla periferia di Milano con solo 290 euro al mese, una manciata di soldi che non bastano neppure per mangiare. Non c'è delità, però bisogna star così. Non c'è delità, ti viene nervoso quando ci pessima. Quando ti viene nervoso cosa fai? Ti butti giù qui e poi te la fai. Allora cerchi di star calmo, toccammo. Queste sono tutte le mie medicine, 15 medicine al giorno, ecco, 15, mi danno i calmanti, sono i calmanti. Bisogna star così, vedi queste, stai bello tranquillo. Siamo tornati a trovarlo nella sua casa. Una storia la sua come quella di tanti italiani su cui si è battuta la crisi. Ci si arrangia, si compra quello che si può, basta. 2,80, anzi no, mi devo correggere per lo Stato italiano. Hanno aumentato 10 euro. C'è l'edito? Due anni, prendo 2,90. Michele si arrangia così, con i rottami che raccoglie e ripara, per raccimolare qualche soldo in più, per mangiare. C'è una ditta, c'è un po' allito, basta. Chiuso sto. A rubare non ci vado, sicuramente, quindi... Si vergogna Michele, si vergogna della sua povertà, si vergogna di non poter aiutare i suoi figli. Quanto le dispiace non poterle aiutare, non poter fare il padre. Tantissimo, molto, questo sì, molto. E questo è la mia vergogna. Grazie.